Con un video pubblicato in contemporanea con l'apertura delle urne per le elezioni comunali, Giorgia Meloni torna ad attaccare Fanpage.i parlando di video costruito a tavolino e attribuendo al direttore del giornale frasi mai pronunciate. Una fake news in piena regola ha lo scopo di fare confusione e di stogliere l'attenzione dalle questioni ancora sul tappeto. Qualche risposta nel merito, a cominciare dalla questione delle 100 ore di girato che Meloni chiede di visionare integralmente. Questa mattina, in concomitanza con l'apertura dei seggi per le comunali, dunque in pieno silenzio elettorale, Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi canali social un video di oltre 7 minuti con il quale ribadisce la sua posizione in merito alla prima puntata dell'inchiesta «Lobby nera» di Fanpage.it. Della posizione di Meloni abbiamo dato più volte conto in questi giorni, convinti che fosse del tutto legittimo garantire replica e diritto di tribuna a opinioni e visioni anche diametralmente opposte alla nostra. Nel video pubblicato stamattina, però, la leader di Fratelli d'Italia si spinge oltre, lanciando accuse molto gravi a questo giornale e inventandosi di sana pianta una dichiarazione del direttore Francesco Cancellato. Meloni dice di aver chiesto ufficialmente a Fanpage le 100 ore di girato per sapere esattamente come siano andate le cose, come si siano comportate le persone coinvolte, per poter agire di conseguenza. La leader di Fratelli d'Italia, però, continua dicendo che il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato abbia definito «oscena» tale richiesta e si lancia in una serie di insinuazioni del tipo «cosa c'è di osceno» in questa richiesta. Non trovate che sia un tantino curioso che non ci lasciano vedere il video?